La Chiesa Santa Maria delle Grazie di Piazza della Repubblica necessita di interventi urgenti di manutenzione. Cosa pensa di fare il Comune che è proprietario dell'immobile? Il Comune si è reso conto di essere proprietario proprio nei mesi scorsi perché non aveva cognizione di questa sua proprietà che risale a una vicenda storica. Nel 1861 la Chiesa, per motivi che non siamo riusciti a risalire, fu demolita e ricostruita dalla comunità di Pozzuoli, dall'amministrazione comunale e fu data in uso al parrogo dell'epoca. Dopo tanti anni il fatto che ci sia necessaria la necessità di intervenire per una manutenzione straordinaria ha posto la questione. Noi riteniamo che questo bene, per ovvi motivi, appartenga alla comunità ecclesiale, ai fedeli, ai credenti, alla stessa Chiesa e saremmo orientati nel condividere con l'ente gestore, con la curia, la necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria ovviamente a carico dell'ente che ne ha il possesso e siamo orientati anche col consenso del Vescovo a donare il bene alla comunità dei fedeli di Pozzuoli. Questo implicherà. Quindi a questo punto la curia, divenendo proprietaria dell'immobile, può realizzare quello che serve al momento? Sì, anche se in molti lavori la stessa curia li ha realizzati, ha rimosso questioni o aspetti connessi al pericolo per i fedeli, per gli utilizzatori della Chiesa, i fruitori della Chiesa. Quindi allo stato attuale sono state di fatto rimosse tutte le preoccupazioni che comportavano una necessità e una cautela nell'utilizzo della Chiesa ma anche degli spazi circostanti dove ci sono stati anche dei danni ad autovetture a seguito nei mesi passati della caduta di calcinacci, niente di grave o di estremamente pericoloso, sicuramente un fastidio per la comunità. In questa maniera la curia avrà la possibilità più serenamente di poter disporre dei lavori anche impegnativi, si diceva, di restauro importante per una Chiesa che è considerata fra le maggiori di Pozzuoli, potrà serenamente operare tutte le attività di restauro essendo proprietaria. Però ecco una proprietà che dovremo sancire in Consiglio Comunale e quindi una donazione che sarà approvata nel prossimo o in uno dei prossimi Consigli Comunali con una clausola. Noi praticheremo una donazione modale, vale a dire il Comune di Pozzuoli che dona al Vescovo, alla comunità ecclesiale, la Chiesa con tutti i suoi annessi, però con l'impegno che essa possa nel tempo servire stabilmente alla celebrazione del culto, quindi che debba rimanere Chiesa e poi nel caso, nel tempo, in un tempo futuro, che magari non ci riguarda neanche, la Chiesa dovesse cambiare destinazione o cessare l'uso a Chiesa, a luogo di culto, ritornerebbe nella proprietà del Comune di Pozzuoli.